La storia di Pinocchio col grillo parlante, dove si vede come i ragazzi cattivi hanno annoia di sentirsi correggere da chi ne sa più di loro. Vi dirò dunque, ragazzi, che mentre il povero geppetto era condotto senza sua colpa in prigione, quel monello di Pinocchio, rimasto libero dalle grinfie del carabiniere, se la dava a gambe giù attraverso i campi per far più presto a tornarsene a casa, e nella gran furia del correre saltava greppi altissimi, siepi di pruni e fossi pieni d'acqua, tale e quale come avrebbe potuto fare un capretto o un leprottino inseguito dai cacciatori. Giunto dinanzi a casa, trovò l'uscio di strada socchiuso, lo spinse, entrò dentro, e appena ebbe messo tanto di paletto si gettò a sedere per terra, lasciando andare un gran sospirone di contentezza. Ma quella contentezza durò poco, perché sentì nella stanza qualcuno che fece cri, cri, cri... Chi è che mi chiama? Disse Pinocchio tutto impaurito. Sono io! Pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saliva lentamente su su per il muro. Dimmi, grillo, e tu chi sei? Io sono il grillo parlante, e abito in questa stanza da più di cent'anni. Oggi però questa stanza è mia, disse il burattino, e se vuoi farmi un vero piacere, vattene subito, senza nemmeno voltarti indietro. Io non me ne anderò di qui, riprese il grillo, se prima non ti avrò detto una gran verità. Dimmela e spicciati. Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori, e che abbandonano capricciosamente la casa paterna. Non avranno mai bene in questo mondo, e prima o poi dovranno pentirsene amaramente. Canta pure, grillo mio, come ti pare e piace, ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui, perché se rimango qui avverrà a me e quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire, mi manderanno a scuola, e per amore o per forza mi toccherà studiare. E io, a dirtela in confidenza, di studiare non ne ho punto voglia, e mi diverto più a correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi e a prendere gli uccellini di nido. Povero grullerello! Ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro, e che tutti si piglieranno gioco di te? Chetati, grillaccio del malaugurio! Gridò Pinocchio. Ma il grillo, che era paziente e filosofo, invece di aversi a male di questa impertinenza, continuò con lo stesso tono di voce. E se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere, tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane? Vuoi che te lo dica? Replicò Pinocchio, che cominciava a perdere la pazienza. Fra i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi va da genio. E questo mestiere sarebbe quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo. Per tua regola, disse il grillo parlante con la sua solita calma, tutti quelli che fanno codesto mestiere finiscono quasi sempre all'ospedale o in prigione. Bada, grillaccio del malogurio, se mi monta la bizza guai a te. Povero Pinocchio, mi fai proprio compassione. Perché ti faccio compassione? Perché sei un burattino, e quel che è peggio, perché hai la testa di legno. A queste ultime parole, Pinocchio saltò su, tutto infuriato, e preso di sul banco un martello di legno, lo scagliò contro il grillo parlante. Forse non credeva nemmeno di colpirlo, ma, disgraziatamente, lo colse per l'appunto nel capo, tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare cri, 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 e poi rimase lì, stecchito e appiccicato alla parete.